Cosa? Ma che fai? No raga, c'è qualcosa che non va Ma tu usi il quintuplo edit? A me non sembra, tanto leggi tu questa cosa Grande! Ragazzi, oggi preparatevi per una sfida epica Ho chiamato due persone La prima è l'SJ più veloce a editare, ossia Rui Bella E la seconda persona è il re indiscusso telemacro, ossia Barry Buongiorno a tutti Ragazzi, oggi si sfideranno a chi è più veloce ad editare Ovviamente Barry usa le macro E si sfideranno in pubblica per vedere chi dei due è il più forte a editare in una situazione reale Quindi ragazzi mi raccomando per questa sfida epica dobbiamo assolutamente arrivare a 10.000 mi piace Quindi facciamo diventare tutti quanti blu il pollicione qua sotto E vi ricordo che se inserite il codice chic in supporto a un creatore su Fortnite E ci taggate in una serie di Instagram in cui shoppate qualsiasi cosa nello shop Noi riposteremo la storia e in più risponderemo i vostri messaggi tutti i giorni E tra l'altro ragazzi guardate ho messo le cam delle maniche così vedete chi è davvero veloce e chi usa le macro E iniziamo Ok ragazzi sta per iniziare la sfida di velocità Sono uno di fianco all'altro quindi chi arriva per primo alla fine del percorso vince E io posso switchare tra loro due ragazzi Quindi vedremo un po' chi arriverà primo Sono tanto agitato perché Rui mi raccomando devi assolutamente batterlo ok? Ok ragazzi siete pronti per iniziare? Via! Vediamo prima Rui che non l'avete fatto Oh attenzione Attenzione vediamo Barry Vediamo Barry e poi vediamo Rui Mamma mia raga Allora c'è da dire che di Barry non sappiamo ancora se usa le macro o no Lo direte voi guardando la sua tastiera Quindi mi raccomando state molto ma molto attenti Ma l'ho detto che non lo uso Mmm sì Anche Shane ha detto che non è un pisellino eppure guarda Vediamo gli edit dal lato Ok Oh attenzione Ma che cavolo fai? Mamma mia Ah ti sei bloccato Questa è la prova che non è macro Non è vero non è la prova se ti blocchi È certo che è la prova Ma Intanto vediamo Rui ragazzi che è nel tratto della Con la velocità aumentata Ok non è non sei tanto più avanti eh Signor macro Vediamo vediamo mentre scende Rui Questo qui ragazzi è un edit difficilissimo da fare Non so se Oh Oh attenzione Vediamo Barry invece Ah qui bisogna risettare Togliere la piramide Editare il muro Mamma mia non riesco a capire cosa bisogna fare Quanta roba Cosa? Ma che fai? Ma che fast edit bro Ma che fast edit sembra che tu No raga c'è qualcosa che non va Ma che Ma tu usi il Il quintuplo edit? Vai 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 Ma vedete ragazzi la differenza è che lui si vede proprio che si muove E che clicca il mouse Invece Barry non lo so Non vedi come sono bello fluido? Eh io non posso vedere la tastiera perché sto guardando il gameplay Però ragazzi scrivetemi nei commenti se secondo voi Barry usa le macro Vai lui facci vedere facci vedere facci vedere facci vedere Vai Rui adesso devi dare il massimo Vai ci provo Comunque abbiamo perso la creativa ma non è detto che non perdiamo la pubblica Bisogna come regola ragazzi lo dico già adesso per dopo Fare almeno un edit prima di ogni kill Altrimenti la kill non la contiamo Vabbè così è troppo semplice Almeno tre direi Oh attenzione Attenzione vediamo 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 Vai Rui vai 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 Grande Ok quanto ci hai messo? Ah un minuto di differenza Ok 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 Comunque ragazzi vi ricordo che nella modalità spettatori Gli edit sembrano tutti molto facili Perché non si vede quanto veloce deve muoversi uno per farli Però adesso vedremo in pubblica Dai Barry Almeno la creativa si è riuscito a vincerla Ok ragazzi vediamo Rui e Barry in pubblica La creativa è stata vinta da Barry Ok dobbiamo ammetterlo Però in creativa le macro sono utili Invece in pubblica non tanto Quindi mi raccomando Prima di ogni kill bisogna fare un edit Però Rui Fagli vedere quante ne facciamo Forza Ah 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 non puoi ucciderlo Ok edit fatto Uhuh E il primo è andato Ah no non puoi ucciderlo con le granate Devi prima fare un edit Ok Rui ha fatto un edit Barry ha fatto un edit E la kill è di Mia Uuuu GG 1 a 1 Vai vai ragazzi dovete essere super carichi Com'è quella striscia rossa nel cielo? È il boss What? Ah 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 ci puscia 26 bianco Sta andando a salvare i suoi amici Vai Rui Oh cavolo Devi editare Devi editare Non uccidano Devi editare Ok edit fatto Sì Ma tu hai editato Barry? Sì Non mi hai aspettato Ok A me non sembra Guarda 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 lì Ok c'è il movimento editato Ok ok Vabbè dai Andiamo questa volta 2 a 1 per Barry Attenzione Io sono un pro player Tu sei un pro macro Oh stanno fightando il boss Vai pushateli Stanno anche morendo Questo qui è pure morto Ah no Barry Dovevi editare Hai assolutamente ragione bro Vai Rui Vai Edita 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 come un pazzo Guardalo Oh è una terra Vai Editargli in testa Pum Pum E siamo a 4 kill Editate Per Rui Contro 2 kill Editate Per Barry Come 4 Stai dicendo bagianate Eh si è fatto l'intero team bro Arriva un elicottero Che stai facendo Barry Eh sti schifezzi Sono fortissimi Oh attenzione Bello Vai Doppio edit Ucciso da Da Barry Eh scusa Io ho fatto un flick Se ho dice Chi non gli ho fatto HS Ma hai editato Sì ho fatto 5 edit Mentre volevo provare A ammazzare quelli lì In quel muro lì Lo vedi che è editato A me non sembra Tanto legge Tutto questa cosa Non lo so Non mi convince Oh attenzione Oh attenzione L'ho schifezzo L'ho schifezzo Rui devi editare Barry devi editare Vai puscialo Due secondi di edit prima Aspettami Rui No ti ha lasciato indietro Un team da me Ho finito un materiale Potremmo essere un problema Oh cavolo Hai tutto il team E non hai maz Oh no Sono sopra il fortino portatile Rui occhio Buono Attenzione Aia Bellissimo Occhio che ti spammano Tu non puoi fare kill Barry Non puoi fare kill Perché non puoi editare Vai fai la kill Ma non te la conto Così non ti ammazza Ah ti sparano da ovunque Vai Rui È tutto nelle tue mani Ok Hai fatto una kill Ma non possiamo contarla Bello Bellissimo edit Rui Mamma mia Quanto sei veloce Mamma mia Rimane solo Rui raga Rui ce la fai Bellissimo come hai fatto Hittarlo Ma quanto sei veloce Ce la fai ce la fai Grande Ma che cavolo Grande raga 5 kill con edit Rui Distroia Vuole pusharti Non sa che sei il più forte Degli edit della scena Intanto questa è una mezzogna Perché il più forte sono io Tu sei il più veloce Bisogna vedere se sei anche il più forte Stessa cosa Grande Spamma E' hittato Chi è che lancia la graia No Non ci credo Che palle Quali che spammano Bellissimo Grande Bravissimo Occhio che devi scappare dalla safe Perché è molto lontana La mia carta Ma non posso E' finita Quindi praticamente Le pubbliche Le ha già vinte Rui Sono due punti in meno Perché non me l'ha presa E stai arrivando a buttare Ma anche 5 punti Anche 4 punti in meno Vanno bene Infatti 4 punti in meno Ok ragazzi Adesso è arrivato il momento Di vedere quante kill Rui Riesce a fare in solo Versus squad C'è del loot davanti a te Ah non l'avevo visto Grazie Oh nemico Hai fatto l'edit Sì sì Ok Edit fatto Free kill Free kill per FJ Rui Vai vai Oh 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 Ma che mira È morto Voleva Vai 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 Bravissimo Viene da solo Chissà se ci sia gente dietro di lui Questo qua era dietro di me Chissà dove Perché non mi Corrava Materiali gratis 7 kill ragazzi Mancano 4 nemici Sei solo contro un team Oh Uno ha appena preso 100 danni No Uno contro 3 Ma sono morti Eccoli Lo sento Devi ammattarli tutti Con quello utilizzabile Oh Vai Rui Fagli vedere Quanto è Oh Ah Stedito No 50 56 Oh ma quanto salgono veloci le persone C'è molto Sembrano forti Rui fagli vedere che cosa significa fare i retake fatti bene Esatto Lanciando un coso Non è vero Guarda cosa significa F1FJ Che predict ha fatto questo Oh no Hai quasi vinto il materiale Signor Rui Oh cavolo E qui non ci sono materiali No Non puoi fare gli edit Mi ha 70 Poi di materiale Basta Rai No No Quasi no Free kill It's at 60 Vai 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 Oh GG Mamma mia ragazzi Abbiamo un pareggio Perché Barry Ha vinto la creativa E Rui Ha vinto la pubblica Diciamo ragazzi In realtà che Barry È più veloce A fare gli edit E Rui è più bravo Ad applicarli In situazioni reali Ragazzi Scrivetemi nei commenti Secondo voi Chi è il più forte E per ora Noi non possiamo far altro Che salutare E ringraziarvi Perché noi come assaggi Becchiamo il prossimo video Ragazzi salutate Arrivederci Bella